Rifacendomi alla canzone di Edoardo Bennato, Abbi Dubbi, oppure più raffinatamente riprendendo scolasticamente del quale ero innamorato Pirandello con Così è se vi pare, io vorrei parlare dei dubbi del cittadino normale, di uno come me che fa una professione bella, anzi dovrei essere informato più di altri, ma alla fine è proprio per questo, perché approfondisco i temi che mi interessa poi diffondere, qualche dubbio mi viene. Il primo dubbio che mi viene è quello sul vaccino per l'anticovid, perché sembra che quelli di Cambridge abbiano trovato un vaccino che a ottobre addirittura dovrebbe essere già sul mercato e per il quale l'Italia ha già fatto una larga prenotazione, un altro vaccino è stato elaborato e in via di sperimentazione in Cina. Ma la mia domanda è, ma io credo che sia la prima volta che di una malattia viene trovato prima il vaccino che la cura. Di solito quando accade qualcosa di sanitario si trova la cura, sì è vero è stata trovata la cura, ma non è stata protocollata come si dice in gergo, quindi è su base volontaria delle strutture che la vogliono poi adottare. Io credo che se a ottobre uscirà il vaccino, è strano che ancora dovrebbe esserci stata una pasticca che faccia passare il covid a chi l'aveva. Comunque, siccome non sono legato da nulla all'Istituto Superiore di Sanità e neanche all'Organizzazione Mondiale, aspettiamo di capirci qualcosa. La mia impressione è che vogliono prima piazzare tanti, tanti, tanti vaccini e questo sarebbe tremendo. Comunque staremo a vedere cosa ne verrà fuori. Gli altri dubbi ce l'ho sul fatto che questi soldi che sono stati dati dall'Europa un po' in prestito, un po' in fondo perduto all'Italia, stiano servendo, almeno dai discorsi che si sente per la campagna elettorale e per le regionali. E questo è veramente squallido, è un uso squallido di soldi che poi verranno e sento dire, vedrete come sapremo spenderli noi se leviamo dalle palle quelli che ci sono ora e gli altri, vedete che questi soldi ci sono perché ci siamo stati noi. E ancora una volta, come sempre, sulla pelle dei normali cittadini, i quali tutti i giorni stanno chiudendo le attività, i quali ancora in molti non hanno ricevuto le casse integrazioni dei mesi scorsi, e questa è veramente una cosa vergognosa, e i quali non so quanto potranno sopportare questi discorsi fatti di nulla, perché quando io sento senza sé, ora c'è questo senza sé e senza ma, che è bellissimo, no? Questo senza sé e senza ma, e il però? No, voglio dire il però, senza sé e senza ma, gli gira subito i coglioni, gli dice io dove so? Però vi dico questo, non vi dura tanto, io mi auguro che non vi duri tanto, che alla fine si arrivi in Dulpansecoce, perché in Valtiberina dicono, si è arrivato un Dulpansecoce, e attenzione perché un locco drentambugione come Cristo vede e un nevisto.